A Teramo non si parla d'altro, Teramo ambiente, ancora di più dopo le dichiarazioni del neopresidente Bozzelli. Si parla di questo perché sono scaduti i rapporti di affidamento dei servizi del comune con la Team. Si parla di una trasformazione della Team tutta pubblica perché le due cose ovviamente sono collegate. E' chiaro che una Team tutta pubblica potrebbe consentire al comune di Teramo di fare un affidamento diretto dei servizi. Ora noi non siamo di massima contraria che un ente pubblico gestisca i servizi di un comune. Ma la Team deve essere trasformata in un ente strumentale, cioè deve diventare un apparato del comune, controllato dal comune, che sborga per essi i servizi e deve portare ad un unico risultato importante, che vi sia un buon servizio con un costo inferiore e quindi una diminuzione delle tasse. Ad oggi però la situazione della Team non consente questa trasformazione, anche perché bisognerebbe liberarsi dei soci privati e invece di fare questa attività il sindaco acquisisce altri soci privati nei rapporti con la Team. Come si affronterà il Consiglio Comunale dedicato proprio alla Teramo Ambiente? Io sono molto curioso di sapere cosa il sindaco ci voglia dire, perché non ha ancora, ci ha spiegato cosa vuole fare in realtà, ne parla in maniera molto generica, poi le trasformazioni delle società in ente strumentali è cosa più complessa e molto più difficile. È chiaro che però l'atteggiamento che ha, i comportamenti che assume in questo momento sono diversi dal voler farla diventare tutta pubblica, cioè fa delle cose come aver costituito da poco questa società per gestire i servizi dei rifiuti a Giulianova che non sono compatibili con una società in house.